Bentornati al Tg7. Il 26 gennaio è stata eseguita un'ordinanza detentiva per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della stazione di Minturno. L'ordinanza restrittiva è stata emessa dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capoavetere, a carico di un quarantenne residente a Fondi. L'uomo dovrà scontare 5 mesi e 25 giorni di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi nell'anno 2008 a Villa Literno. Il quarantenne è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare. Mettersi a cavalcioni sul muretto della piazzetta è l'evento protesta in programma domenica pomeriggio alle ore 16.30 a Monte San Biagio, organizzato da tutti quei cittadini che non ci stanno alla realizzazione del muretto sul castello del paese di cui abbiamo parlato pochi giorni fa. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali, scrivono nella descrizione, e in modo ironico continuano. L'evento nasce dall'esigenza di eliminare una forma di discriminazione attuata nei confronti di tutte quelle persone nate basse che, a causa del nuovo muretto, sono state private della vista del paesaggio della piazzetta del castello, uno dei punti più magici di Monte San Biagio. Certa della solidarietà del paese, invito tutti a partecipare, alti e bassi. Superano di poco i 1.000 euro complessivi i gettoni di presenza per i consigli comunali di Lenola e Monte San Biagio. 11,60 euro è il valore del singolo gettone a Monte San Biagio, mentre il comune di Lenola ha stabilito un rimborso di 16,43 euro, più il 30% di riduzione poiché l'ente nel 2016 ha violato il patto di stabilità interno. Vanno dunque al risparmio i politici con una spesa che ammonta a 603 euro per Monte San Biagio e a 460 euro per Lenola. Si è tenuto martedì 24 gennaio presso la sala consigliare Luigi Einaudi un incontro con le associazioni cittadine convocato dall'assessore alla cultura e politiche della scuola Beniamino Maschietto, finalizzato ad illustrare il regolamento istitutivo dell'albo comunale delle associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 97 del 14 novembre 2016. Nel corso dell'incontro l'assessore Maschietto ha illustrato alcune ipotesi di programmazione per eventi futuri, tra cui quella del Carnevale Fondano in bici, che è stato già proposto ai dirigenti degli istituti comprensivi, i quali si sono espressi favorevolmente in merito alla partecipazione degli alunni. Per meglio definire la proposta, destinata soprattutto a bambini e famiglie, è stato pertanto convocata una nuova riunione, che avrà luogo martedì 31 gennaio prossimo, sempre presso la sala consigliare Luigi Einaudi, alla quale tutte le associazioni sono invitate a partecipare. Spazio ora agli eventi. Mercoledì 25 gennaio si è svolto il Teatro della Sorpresa, organizzato dal Red's Cafe in collaborazione con Cocktail Dreams. Nuovi aromi, tanti azzardi, l'aperitivo è andato in teatro con un concetto che ha tentato di creare un nuovo modo di approcciarsi ai prodotti italiani, alla storia ma soprattutto un nuovo stile di vita. In un viaggio che è partito da Cangiulo fino a Marinetti, fondatore del Movimento Futurista Italiano. Ai nostri microfoni Giuseppe Capotosto di Cocktail Dreams. Giuseppe Capotosto, responsabile di Cocktail Dreams. Ci parli di Cocktail Dreams? Sì, Cocktail Dreams è una scuola bartending, che ormai siamo su fondi da otto anni, però più che altro è un movimento perché abbiamo l'obiettivo di fare cultura del bere bene, quindi il bere responsabile, il bere bene miscelato e facciamo tante di quelle iniziative durante l'anno, tra cui da quest'anno abbiamo intrapreso un percorso di masterclass totalmente gratuiti, aperti sia agli appassionati che ai professionisti, con appuntamenti di vario tipo che spazzano sulla miscelogia e sui prodotti della licuristica italiana e internazionale. Abbiamo fatto da settembre Jack Daniels, Santiago de Cuba, dove abbiamo ospitato direttamente da Cuba il signor Bermudez, che è responsabile del titolare dell'azienda, poi abbiamo fatto una puntata sull'assenso e poi quest'oggi abbiamo chiuso un po' il cerchio per questo 2016-2017 sulla miscelazione degli anni 30, quindi che abbraccia il periodo futurista, quindi polibibide, prodotti della licuristica italiana che erano eccellenze negli anni 30 e 20 del ventennio fascista e comunque dei primi anni del Novecento e comunque tutti quei prodotti che abbraccia, vanno a cavallo tra i due secoli, che erano un banto per la licuristica italiana e quindi oggi con la partecipazione di Enzo Tana, che è un massimo esperto ricercatore del periodo per quanto riguarda la licuristica, presentiamo e quindi andiamo a riscoprire un po' in un viaggio quello che erano i prodotti dell'epoca, come bevano l'aperitivo e come lo intendevano l'aperitivo negli anni 20 e 30 dello scorso secolo. Qual è il pubblico di questi masterclass? Il pubblico è vario, ci sono dai ragazzi che hanno fatto i corsi presso di noi, professionisti del settore, quindi lavorano, quindi barman, barmanager, oppure titolari di attività, oppure anche semplici appassionati che hanno voglia di non limitarsi al semplice aperitivo o drink che hanno sempre bevuto, quindi di capire cosa c'è al di là del bancone, visto che comunque il cliente è quello che, con tutto che è appassionato, ma è sempre dall'altra parte, quindi per una volta ogni tanto gli facciamo entrare dall'altra parte del bancone e gli facciamo scoprire un mondo che magari hanno solamente visto o percepito, però con questi masterclass gli escono a toccarlo tangibilmente con mano. È intervenuto anche Enzo Tana che ha curato il progetto Il Teatro della Sorpresa. Enzo Tana, Il Teatro della Sorpresa, perché questo nome? Il Teatro è un'ispirazione che facciamo al movimento futurista, che fu appunto un movimento d'avanguardia che fu lanciato dal poeta Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, nativo di Alessandria d'Egitto, che ha vissuto anche la sua adolescenza in Africa. In quanto noi questa ispirazione la omaggiamo proprio a un futurista in particolare napoletano, Cangiullo, che fu uno dei napoletani scrittori dell'altro che ha derivato a pieno ritmo con il movimento stesso. Da qui nasce poi Il Teatro della Sorpresa perché i futuristi applicarono diverse arti e tra tante arti ci fu anche il teatro. Marinetti all'epoca lanciò appunto Il Teatro di Varietà, era appunto un teatro che aveva il comito di suscitare interesse, emozioni dal pubblico, quindi creare anche delle dinamiche tra il pubblico, anche delle critiche, che per quanto i futuristi le critiche erano costruttive per loro perché aiutavano proprio a progredire anche il movimento. Quindi tra una chiacchiera e un'altra da Marinetti e Cangiullo ci fu poi l'idea di scrivere un nuovo teatro e che era appunto il Teatro della Sorpresa. Noi non abbiamo fatto altro che applicare quell'idea e portarla poi nel nostro mondo del bere, quindi far vivere il nostro cliente un'emozione nuova, un qualcosa di nuovo, un nuovo approccio ai prodotti nazionali e territoriali, quindi riconoscersi attraverso le nostre bellezze, quindi guardarci più dentro la nostra casa nonché poi andare oltre e provare sempre nuove esperienze, nuovi gusti, amari, vermut che erano appunto il fiore all'occhiello della nostra nazione e il Teatro della Sorpresa aiuta proprio a portare avanti questo concetto e soprattutto questa esperienza. Un evento che comprende una fase teorica e una pratica? Assolutamente sì, comprendo una frase teorica con cui esprimo la mia idea che la condivido più che altro in questo incontro, mi piace sempre dire incontri invece di seminario master perché seminario master lo vedo sempre su personale, un qualcosa di troppo tecnico, l'incontro è più umano, un qualcosa che abbraccia tutto e si sa, abbraccia sia l'amatore che ovviamente anche il bartender o meglio nel nostro concetto futurista diventa miscelatore. La cucina futurista fu applicata negli anni 30, nel 33 fu aperto il Santo Palato di Torino, da lì che comunque Marinetti con Filia fecero l'inaugurazione e stesso Marinetti portò il suo cuoco di fiducia, Giacchino, che faceva una sorta di cucina molecolare ma un po' più applicata a territorio. Da lì poi a queste pietanze che loro azzardate ovviamente, che facevano degli accostamenti veramente allucinanti, applicavano delle polibibde che era il termine nazionalista che sostituiva il cocktail. Sabato notte di festa al Sofia Club di Fondi. La nota discoteca, tra le più famose in Italia, ospita il DJ Giotty Vannelli. Vannelli è considerato un artista a tutto tondo, non solo in Italia, ma anche nel resto del pianeta. Conosciuto dal popolo della notte, soprattutto per il Supalova, pensato nel 2000 per il Talkville di Milano, è una di quelle star eternamente giovani, capace di rinnovarsi nell'arco di oltre 30 anni, con serate destinate a restare nel cuore di chi ama frequentare le discoteche. Apre la serata il giovane e promettente DJ Gian Domenico Di Vito. Al termine dell'edizione delle 20.50 di sabato e di quella delle 13.50 del nostro Tg di domenica, sulla nostra rete andrà in onda il coinvolgente incontro con Roberto Vecchioni, nell'ambito dei festeggiamenti per l'ottantesimo anniversario del liceo Gobetti di Fondi. Il noto cantautore, tra riferimenti dotti e anedotti, ha fatto breccia nel cuore della copiosissima platea, nella mattinata del 12 gennaio, dove ex alunni ed ex docenti del liceo si sono incontrati nell'affollatissima palestra dell'istituto. Parliamo ancora della programmazione della nostra rete, perché la prossima settimana ci sarà un'importante novità. mercoledì sera alle ore 21.05 e in replica giovedì alle ore 14.05 andrà in onda la prima puntata di Mercoledì Rosso Blu, un programma ideato dal gruppo di Ultra Bravi Ragazzi, prodotto da Canale 7 e condotto da Lorenzo Nallo, con numerosi ospiti in studio per parlare di Unicusano Fondi e non solo. Durante le puntate sarà infatti dato spazio anche alle altre società sportive del comprensorio, dal calcio a 5 alla palla a mano, dal basket alla palla a volo. Quest'edizione del nostro TG termina qui. Io come sempre vi ricordo che se avete suggerimenti o segnalazioni potete mandare una mail all'indirizzo a redazione chiocciolatvcanalesette.it oppure contattarci sulla nostra pagina Facebook. Potete continuare a seguirci sul nostro sito tvcanalesette.it dove troverete tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento sulla nostra rete.